Renato Perrini è candidato al Consiglio regionale pugliese con Fratelli d'Italia. Essere eletti significa anche portare al centro della regione Puglia le problematiche di Taranto. Mi domando come mai i posti chiave, i punti, i posti di comando, finora sono stati soprattutto a pannaggio dei baresi, dei leccesi. Come se Taranto non avesse professionalità, come se Taranto non avesse intelligenze, come se noi tarantini fossimo, per così dire, figli di un Dio minore. Ma è una domanda che non devi chiedere a me. No, no, stiamo riflettendo sulla mancata centralità di Taranto. Una delle cose che ho detto al mio referente politico, che attuale è candidato a presidente Fitti, che sarà il prossimo presidente della regione, e di mettere Taranto al centro dell'agenda regionale. E quando parlo di al centro parlo che i posti strategici della nostra città non devono stare in mano ai baresi e i leccesi, niente contro le persone di Lecce e Bari, ma anche noi a Taranto abbiamo delle eccellenze, abbiamo dei professionisti che ci possono rappresentare. Io non ho mai capito in questi anni come mai veniamo rappresentati noi tarantini nei posti di comando da gente di Bari o di Lecce. E' una delle cose che ho detto a Raffaele Fitti, che uno dei miei obiettivi è quello di azzerare una classe dirigente attuale che non è tarantina, ma anche parlo del primario e altre cose che stanno negli ospedali, perché ho visto il trasferimento delle postazioni cambiate in poco tempo di gente che è venuta da Bari. Anche negli ultimi tempi, proprio sotto campagna elettorale. Negli ultimi tempi non ne voglio neanche parlare perché non so fino a che punto vogliono esagerare a fare questi cambiamenti delle ultime ore. Colpi di mano. C'è gente che so che sta 20 ore al giorno, certe volte negli ospedali, da una vita, invece di essere premiato, viene messa a un angolo e poi vengono premiate gente di Bari o di Lecce. Una cosa che è così assurda che non so come mai gli altri non se ne accolgono. Però diciamo che mancano 20 giorni a questo calvario che sta per finire, perché io metterò Taranto e la provincia al centro anche in questo tipo di situazione. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS